L'anima beata di Maria, come colomba, cui vengono spezzati i lacci, si disciolse dal suo santo corpo e volò nel seno del suo diletto. L'anima beata di Maria, come colomba a cui vengono spezzati i lacci, si disciolse dal suo santo corpo e volò nel seno del suo diletto. Oggi è il 18 maggio, è la festa di San Felice da Cantalice. Chi è San Felice da Cantalice? E' il primo santo capuccino. Grazie a San Felice, se oggi noi abbiamo l'ordine capuccino, perché il Papa aveva tanta simpatia verso questo fraticello che questuava per le vie di Roma, che si incontrava con San Filippo Neri e si scambiavano anche delle battute, ma soprattutto pregavano insieme. E chi pregavano questi due santi? Pregavano la Madonna. Di San Felice si dice, quando camminava per le vie di Roma, corona in mano, mente in cielo, testa china, cioè mortificato, con la corona del rosario sgranata per le vie di Roma e la sua mente in cielo. Così era San Pio. La sua mente era sopra di no, cioè elevata sempre al cielo, rivolta sempre a Gesù e alla Madonna. Lui poteva avere tante di quelle persone attorno, però il suo pensiero era sempre rivolto al Signore. Forse tu non ti accorgevi che stavi accanto a Lui, ma ti stava già raccomandando a Dio, raccomandando la tua anima, raccomandando di cui tu avevi bisogno, il tuo lavoro, le tue necessità spirituali, le tue necessità temporali, tutto perché Padre Pio era un mistico, il più grande mistico di questi ultimi tempi. È stato definito, Padre Pio, un gigante di santità, un gigante di santità. Perché? Perché ha saputo imitare la Madonna Santissima. Guardate, non faceva nulla senza l'intercessione della Madonna. Nel libro di Padre Marcellino, scrive che il Padre Agostino da San Marco in Lames ci dice che oltre le visioni della Madonna, a cinque anni, cominciarono pure le apparizioni diaboliche. però la Madonna era sempre accanto a lui e si racconta che egli da fanciullo tante volte doveva percorrere la strada che va dal paese di Pietrelcina, la campagna di Piana Romana, per raggiungere i suoi genitori o dopo essere stato a scuola o dopo aver fatto qualche servizio in paese. Quasi a metà del tragitto c'era un ponticello. Più di una volta egli ha sentito come una forza quasi fisica che tentava di spingerlo nel vuoto mentre si sentivano voci beffarde che dicevano il santo, il santo, ecco il santarello. Ma la Madonna, dice, era al suo fianco a proteggerlo con i suoi angeli. Ecco, la Madonna era al suo fianco per proteggerlo con i suoi angeli. Io so da una figlia spirituale che un giorno pare che la Madonna abbia detto in una locuzione mistica «Guai a chi imbratta questo figlio immacolato». La Madonna non sopportava quando sentiva parlare male di Padre Pio quando sentiva calunnie contro Padre Pio. Guai! In una locuzione sono cose private però mi piace raccontarla. Diceva «Perché quella persona poi se la dovrà vedere con me». Pensate! Pensate l'amore che la Madonna aveva verso questo figlio e questo figlio l'amore che aveva verso la Madonna non dimentichiamoci che la Madonna e la mamma una mamma viene sempre in difesa dei propri figli. Pace e bene! La comida è fatta la Madonna è presa e la mia vitale sì è fatta la Madonna e la mia vita sono cose private Grazie.